saluti buongiorno capitano gargiulo il segreto del manoscritto di gesù di nazaretta ancora fresco di stampe siamo onorati di avervi qua per sentire e per presentarci questo nuovo volume è un romanzo è un racconto storico di che cosa si tratta maresciallo raggiù è la storia degli ultimi 10 15 giorni di vita di gesù raccontati da lui stesso io ho immaginato che nella necropole della penisola sorrentina durante la costruzione di un parcheggio emergesse una necropoli con all'interno un manoscritto fantastico fantastico si è un racconto che però è basato su documenti storici sui vangeli e su un po sulla nostra tradizione ho fatto come se gesù raccontasse la sua storia e l'affidasse a un discepolo ad emmaus prima di avviarsi verso gerusalemme perché poi è dove il risorto anche da dove ti è nato quest'idea noi di necropoli qua in penisola sorrentina ne abbiamo tante come te è venuto in testa quando ha negli anni 90 in località sottomonte fu eseguito la costruzione di un parcheggio e fu scoperto una necropole e io ho immaginato che questa necropoli salista al tempo di san pietro quello è memorabile la necropoli di via san martini che ha dato anche dei vetri archeologici di grande interesse e io mi sono ispirato a questo avvenimento per 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 impostarci il romanzo intanto vedo carello editore che è nuovo per le vostre pubblicazioni ormai possiamo dire che questo è il trentesimo trentunesimo il trentottesimo libro trentottesimo libro quindi penso un po me ne sono persi qualche d'uno per strada il carello editore quando gli ho mandato in visione alcuni manoscritti si è dichiarato entusiasta perché io non sapevo che lui già mi conoscesse tramite la professoressa mineia stanita di meta mi ha proposto di pubblicare anche altri manoscritti inediti uno dei quali la storia della nascita di gesù sarà pubblicato a dicembre nella e sarà presentato nella nostra parrocchia durante il periodo natalizio benissimo benissimo è un libro che certamente deve girare sia per la penisola e sia per il contenuto ma non è che abbiamo rasantato un poco abbiamo scateniamo le ira degli ecclesiastici dei non credo proprio perché un libro che gesù in questo libro traspare tutto l'amore di gesù che l'ha portato addirittura ad affrontare la morte in croce è un libro in alcuni tratti un pochettino crudo perché ho la ho narrato le varie fasi del del processo quindi la flagellazione la morte in croce di tenere però attenendomi alla storia alla bibbia alla bibbia ai vangeli nel rispetto pieno dei vangeli e quindi hai avuto una buona accoglienza da questo editore sia un ottimo accoglienza sia un editore o è un tipografo solamente è un editore a tutti gli effetti il libro andrà in tutte le edicole già sta in tutte le edicole è stato vagliato accuratamente diciamo così è stato vagliato da una commissione di 20 professori universitari addirittura sì e l'hanno trovato interessante tanto è vero che quando mi è arrivato il giudizio che mi hanno spedito non mi sono sentito molto contento perché non pensavo affatto ah e li dobbiamo vederli dobbiamo sentire intanto mi stavi dicendo che la prefazione è stata fatta da da una professoressa dalla professoressa rosanta riccelli che è una una collaboratrice del dell'editore a catanzaro ho capito e tu già sai qualche appuntamento possiamo invitare i nostri lettori alla presentazione diciamo così al pubblico adesso questa è una presentazione alla stampa in anteprima assoluta diciamo il libro sarà pubblico sarà presentato a cura della confraternita della natività di sant'agnello il che il dottor guastaferri inferiore mi ha invitato a presentarlo in concreca e stiamo organizzando la serata non so ancora la data non sappiamo la data ma tenetevi pronti diciamo così altri dettagli che possono stimolare la nostra curiosità voi siete sempre molto forbito nella ricerca nei vocaboli nelle cose che neppure io conoscevo per esempio quando gesù è stato dopo il primo incontro con con anna gesù è rimasto una notte intera in una prigione scavata nella terra in una prigione sotterranea perché i prigionieri politici prima di subire il processo dovevano rimanere una notte intera in isolamento questa è una cosa che io non sapevo affatto e l'ho scoperto appunto tu l'hai letto dai vangeli dall'enciclopedia dei vangeli alcuni altri libri che ho consultato tanti libri prima di mettermi al lavoro è stato più un lavoro di ricerca che poi una volta che tenevo il materiale tenevo ben fissa nella mente come fare il racconto lo scritto in circa un mese benissimo il nostro in bocca al lupo ci prenotiamo per una presentazione per la biblioteca di piano per le signore dell'uni 3 il piacere di far conoscere quest'anteprima questa strenna natalizia da far circolare grazie ci aggiorniamo in bocca al lupo e auguri